L'acqua deve essere nebulizzata, fatta molto fine in modo che si congela. Come vedete questo ghiaccio ha avvolto questo rametto di pesco e dovrebbe fargli un po' da protezione. Ecco come vedete se io vado a rompere il ghiaccio sotto ci sono le foglioline e quant'altro. I fiori sono tutti avvolti dal ghiaccio, è un po' tipo la casetta degli eschimesi, meno 40 e 0 gradi all'interno. Si tratta del sistema antibrina indispensabile per salvare i raccolti dell'importante distretto frutticolo a retino. Da giorni infatti le temperature rigide della notte mettono a dura prova gli alberi da frutto in piena fioritura in questo momento. Vedete qui il pistillo giallo e il fiore come è tutto ricoperto dal ghiaccio, c'è solo questa piccola finestrina davanti. Questo pistillo che è così giallo come dovrebbe essere regolarmente in natura sicuramente questo fiore darà una pesca, un frutto. Quindi il trattamento per lo meno per questo fiore è andato bene. Nei distretti a rigui del consorzio di bonifica 2 Alto Valtarno è così in pieno funzionamento il sistema antibrina. La Val di Chiana è una zona molto frutticola, è molto ben servita anche dall'acqua della diga di Montedoglio e grazie anche a questa riusciamo a coprire maggiori ettari di frutteti e quindi ringrazio il consorzio. Usiamo anche acqua nostra quindi da pozzi, da laghetti perché per fare questo trattamento c'è bisogno di parecchia acqua e almeno 4 atmosfere di pressione. La distribuzione dell'acqua è così non solo utile per fronteggiare i periodi siccitosi ma anche per contrastare gli effetti delle gelate fuori stagione. Speriamo perché meno 5,3 veramente per questo periodo è un caso quasi eccezionale visto che di giorno abbiamo delle temperature molto miti.